Davanti al prossimo! Salve dottore! Mi dica pure, qual è il suo problema? Ho una vita di merda! Mi prendono per il culo, dicono che sono fallito e la mia tipa mi urla addosso. Ah! Allora abbiamo il prodotto perfetto per lei! Ah, figata, come si chiama? Esti cazzi! Ma come esti cazzi? Ma lei è un maleducato! Ma no, proprio esti cazzi! È il nome del prodotto! Oh mio Dio! Non ho mai visto un prodotto così efficace! E ricordi, sbattersi nei coglioni è la soluzione migliore! Ok, grazie dottore! Ricordi, 4 comprese al giorno e comunque sono 95 euro! Eh? E? E? Grazie a tutti.